Marathon Foto Pisa Gruppo sportivo 1970-1980 Album numero 23 di Giusti Walter Foto, audio, mix e musica di Walter Giusti Centinaia, centinaia di figli di cittadini si sono svegliati Libertà, salute ci accompagnavano durante le nostre marce E' così che scoprivamo la natura e la bellezza che era intorno a noi Grazie, grazie a tutti i maratoneti dal Walter Giusti e dal Marathon Club di Pisa Maria, Vietnam, la Cambogia, Maria La realtà Non è facile Parlare di Maria Ci sono troppe cose che sembrano più importanti L'interesso di politica e sociologia Per trovare gli strumenti e andare avanti L'interesso di qualsiasi ideologia Ma vi è difficile Parlare di Maria La libertà Maria La rivoluzione Maria Il Vietnam La Cambogia Maria La realtà Se sapessi Parlare di Maria Se sapessi davvero capire la sua esistenza Avrei capito esattamente la realtà Ma paura La tensione La violenza Avrei capito il capitale La borghesia Ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria La libertà Maria La rivoluzione Maria Il Vietnam La Cambogia Maria La realtà Maria La libertà Maria La rivoluzione Maria Il Vietnam La Cambogia Maria La realtà Maria La realtà Maria La realtà Maria Non nel senso di un discorso Quello che mi viene Non vorrei Non vorrei Che si trattasse di una cosa mia E nemmeno di un amore Non conviene Quando dico Parlare di Maria Voglio dire di una cosa che conosco bene Certamente non è un tema appassionante In un mondo così pieno di tensione Certamente siamo vicini alla pazzia Ma è più giusto che io parli di Maria La libertà Maria La rivoluzione Maria Il Vietnam La Cambogia Maria La realtà Non è facile Parlare di Maria Ci sono troppe cose Che sembrano più importanti L'interesso di politica e sociologia Per trovare gli strumenti E andare avanti L'interesso di qualsiasi ideologia Ma vi è difficile Parlare di Maria La libertà Maria La rivoluzione Maria Il Vietnam La Cambogia Maria La realtà Se sapessi Parlare di Maria Se sapessi davvero capire la sua esistenza Avrei capito esattamente un'altra realtà La paura, la tensione, la violenza Avrei capito il capitale, la borghesia Ma la mia rabbia è che non so parlare di Maria La libertà Maria La rivoluzione Maria Il Vietnam La Cambogia Maria La realtà Maria La libertà Maria La rivoluzione Maria Il Vietnam La Cambogia Maria La realtà Maria La realtà Maria Maria